Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro Tra le migliori blue chip di Piazza Affari, Poste Italiane avanza dall'1,56%. Le peggiori performance si registrano su Montlare, che ottiene meno 7,64% Sulla parità lo spread, che rimane a quota più 101 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75% Annunciati in Unione Europea il dato sul PMI Manifatturiero, pari a 63,3 punti, e il dato sul PMI Servizi, che si attesta su 50,3 punti Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Manifatturiero e del PMI Servizi Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti